Amiche e amici di Rossini TV, un clima perfetto ci accoglie oggi ad Urbino, oggi è la giornata nazionale dell'università per l'iniziativa Università Svelate, siamo qua per l'inaugurazione del nuovo polo, del nuovo centro, del nuovo hub scientifico Enrico Fermi. Nasce dove c'è uno spazio che tutti conoscono e che hanno conosciuto e imparato a conoscere nei decenni come soggesta, andremo a capire che cosa è successo, come si è sviluppato negli anni questo insediamento, quali sono le modifiche e le novità che portano oggi al taglio del nastro. Quando eravamo molto più giovani speravamo nella realizzazione di un'infrastruttura totalmente dedicata alla ricerca, ecco dopo tanto tempo e tanti diversi sforzi da molte persone differenti, in questo momento abbiamo qua una serie di competenze diverse ma complementari che lavorano assieme. E' una delle iniziative più importanti ma non solo per Urbino, credo, realisticamente per tutto il centro Italia, perché qua abbiamo messo insieme chimici, biologi, biologi molecolari, morfologi, persone che si occupano di materiali, persone che si occupano di salute complessivamente ma anche di tecnologie innovative. Negli ultimi anni aveva necessità di essere riqualificato sia dal punto di vista energetico, perché questo è stato pensato negli anni, fine anni 60, primi anni 70, quando il costo del petrolio era irrilevante e anche da un punto di vista della sicurezza sismica. Quindi abbiamo concentrato qui tutti i laboratori di ricerca dell'Ateneo, quindi lasciando in centro solo la parte didattica. Lo scopo è quello di creare un polo di ricerca dove i ricercatori possono lavorare anche insieme, condividere attrezzature e quindi usare tutte le risorse in modo più efficiente ed efficace. Il futuro di questa struttura è di essere un centro di ricerca all'avanguardia, ricerca in questo caso principalmente nell'ambito biologico, chimico e farmaceutico, ma non solo. Questo è il primo lotto di riqualificazione, già i lavori per il secondo lotto stanno iniziando e quindi avremo quasi 12.000 metri quadri dedicate alla ricerca dell'Università degli Studi di Urbino, che penso poche università si possono permettere in questo momento. Lo sviluppo della nostra università vuol dire anche sviluppo della nostra città e del nostro territorio, perché non è l'Università di Urbino, ma è l'Università della nostra provincia e quindi questo ci fa molto piacere perché qualifica dal punto di vista culturale, insieme anche a tutti gli istituti, le accademie che ci sono nella nostra città, veramente siamo in una città che fa cultura come l'ha fatta nella storia. Grazie. Grazie.